Presidente, 500 euro per una giornata nel Salento, è un po' eccessivo come in Porto Mai, è veritiera questa analisi? Assolutamente non corrisponde alla realtà, al vero, oltretutto non siamo neanche al club proprio della stagione che è il 10, il 15 di ferragosto che magari si può capire qualche eccesso. Come ogni anno c'è una campagna discriminatrice contro il Salento, adesso si sono inventati il caro prezzo, le 500 euro al giorno, l'anno scorso c'era la frisella, poi la fetta d'anguria. In Puglia una giornata al mare arriva a costare anche 500 euro a famiglia, un dato però contestato dagli operatori del settore. Ecco, io credo, anzi sono convinto, anche sentendo gli altri associati, che tranquillamente in spiaggia una famiglia di 4 persone con una giornata piena in spiaggia che significa ombrellone, ombrellone a 20, a 25 euro al giorno con due lettini, un pranzo che assolutissimamente si aggira intorno ai 50 euro. Io dico che con 100 euro al giorno credo che rimanga anche qualcosa di resto. Quanto costa una frisa in media nel nostro abilimento balneare? La frisa va dai 3 euro, può arrivare anche a 5 euro, a 8 euro. È chiaro che sulla frisa faccio la famosa frisa gourmet, dove metto il pomodoro d'atterino, dove metto il salmone, dove metto magari del crudo. È chiaro che, signori mie, i prezzi sono lievitati alle stelle dappertutto. Bottiglie d'acqua a quanto costa? Le bottiglie d'acqua vanno da 1 euro alla mezzo litro, arrivano a 1 euro e 50, la litro e mezzo va a 2 euro, può arrivare anche a 2 euro e 50. Però anche lì, frigoriferi messi a 40 gradi di temperatura, potete pensare cosa consuma un frigorifero. Turismo di qualità, ma turismo per tutte le tasche, perché si può scegliere nel Salento in Puglia? Assolutamente sì. Le nostre raccomandazioni è di prima di visitare uno stabilimento a bagnare, un ristorante, un bar, qualsiasi cosa, di rendersi conto dei listini prezzi, perché i listini prezzi devono essere per legge visibili, quindi poi uno ha la libera scelta e decide quello che vuole fare. L'importante è che a prezzi alti corrispondono servizi e qualità alta.